Torna domenica 25 settembre la più antica mostra mercato di attrezzature d'epoca foto antiquaria, giunto ormai alla sua 62esima edizione. La manifestazione animerà come di consueto Piazza Grande dalla mattina alla sera. È una bella soddisfazione avere questa vetustetà di questa manifestazione e le novità sono sempre orientate sul digitale perché sembra una contraddizione di termini però oggi l'usato è il digitale. I commercianti non tengono più magazzino perché dopo sei mesi sono già vecchie e quindi il risultato è ottime macchine cosiddette usate ma spesso sono nuove e si trovano in queste manifestazioni ormai rarissime, siamo rimasti veramente in pochi, che si fanno in Italia e trovano i clienti appassionati di fotografia, trovano ottime occasioni. Per l'occasione il fotoclub La Chimera ha organizzato presso la propria sede sotto le loggie Vasari un evento collaterale dal titolo Arezzo Un Tempo, mostra di fotografie storiche che raccontano attraverso 60 istantanei inedite la gente, i luoghi e gli eventi di Arezzo tra il 1896 e il 1962. Questa per noi è la nostra carta vincente sempre comunque sia nei libri che abbiamo fatto sia nelle mostre che facciamo quindi la gente qui diciamo che non nega di venire a vedere queste belle cose dove magari rivedono i nonni, rivedono appunto i propri antenati della famiglia. Però questo è un archivio così importante che ci restituisce immagini e storia della città che è un bene prezioso e per cui poi dare supporto a questa manifestazione che ogni anno porta centinaia di persone a vedere la nostra città e a scambiarsi materiali, quindi per noi è motivo d'orgoglio, per io dove stavo. Grazie.